Avola partecipano a una rissa arresti domiciliari per 47enne e 21enne. Agenti del commissariato di Avola hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 47 anni e di un giovane di 21, entrambi responsabili di aver partecipato a una rissa utilizzando un'arma da taglio. I due il 30 maggio scorso aggredivano per futili motivi due minori, rispettivamente dei 17 e 15 anni che hanno riportato entrambi gravi ferite.